a s m r s ciao a tutti ragazzi e ragazze ben tornati in questo nuovo video avvicinerei un pochettino di più il microfono così anch'io sento meglio intanto vi chiedo come state io spero come sempre tutto molto 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 bene io sto abbastanza bene allora mi vedrete struccata non perché io sia pazza ma perché fondamentalmente oggi andremo a fare un bellissimo cat read with me con un po' perché devo uscire quindi con... cosa sto dicendo? con dei trucchi ovviamente e allora per questo cat read with me ho pensato di utilizzare questa palette che non utilizzo da veramente tanto tempo e questa è questa che ho comprato da brand mark della Disney ed è veramente carina carina e veramente non lo utilizzo da tanto tanto tantissimo tanto quindi oggi lo andrei fuori a utilizzare insieme e poi i soliti prodottini che utilizzo per la base se ve li siete persi vi invito a seguirmi sul mio secondo canale e ho un canale vlog e mi farebbe veramente tanto piacere lì parlo anche un pochettino di make up perché è un'altra cosa che mi piace veramente tanto allora ragazzi oggi è martedì dopo lunedì di pasquetta e per voi non so in realtà che giorno sarà perché sono un pochettino indietro con i video quindi in caso fatemi sapere come avete passato quella pasqua e intanto che vi racconto la mia io mi trucco allora lo specchietto veramente 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 minimo quindi spero di fare cose carine allora la mia pasqua allora io l'ho passata con mia sorella l'abbiamo magari lì due capelli indietro perché sennò faccio un macello l'abbiamo passata a mangiare con tutte le festività ovviamente perché se non si passa la festività a mangiare non è una festività e quindi abbiamo mangiato veramente 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 tanto tipo un sacco di cioccolata abbiamo aperto le uova di pasqua poi che altro abbiamo mangiato? la pastiera la pastiera cioè tipo il giorno di Pasqua io ho mangiato solamente cioccolata e pastiera veramente non ho mangiato nient'altro anche perché poi io quando ci sono le festività io che sono amante dei dolci penso è festa posso lanciarmi tutti i dolci che voglio oggi quindi vado in estasi con i dolci e ne approfitto e comincio a mangiarne veramente in grande quantità però vabbè era Pasqua quindi ci sta tutto e poi invece ieri ho cucinato che era Pasquetto per me e mia sorella i camperetti con le zucchine che sono veramente veramente buoni e in questo periodo mi sto veramente tanto alla cucina perché veramente mi piace tanto 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 e niente l'abbiamo passato così poi vabbè io ieri ho fatto delle consegne per l'Accademia e le ho fatte dalle 4 del pomeriggio fino alle 9 di sera ovviamente con delle pause del mezzo perché se no morivo e quindi è stato comunque un giorno non di spango diciamo cioè non ho giocato a giochi da tavole e cose così però voi fatemi sapere come l'avete passato sono molto 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 curiosa questo periodo fa veramente molto molto freddo e mi dispiace la cosa perché cavolo siamo ad aprile quindi voglio il sole e voglio l'aprile vero però purtroppo fa freddo allora io mi dispiace veramente tantissimo che mi state vedendo in condizioni da ha i tigli rossi style bianchi allora ragazzi vedete gli aggiornamenti intanto che mi sono fatta tiktok con mia sorella già sul mio profilo lei partecipa praticamente quindi se non l'avete ancora fatto andatemi a seguire anche lì perché ci stiamo veramente divertendo tantissimo a farli a fare la macchinetta sporca ci siamo divertendo veramente veramente molto 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 e abbiamo già fatto qualche video e sono veramente molto contatta perché lei non è una persona social cioè a malapena a facebook non ce l'ha ma a malapena a un telefono a mia sorella quindi allora vi trovo dei piccoli aggiornamenti intanto che ho scaricato streamlabs per twitch quindi presto ci saranno delle live su twitch e ve lo farò sapere però intanto intanto che trovo un momento per farle perché non abito da sola quindi comunque non posso diciamo le sere stare lì eccetera quindi devo trovare il momento giusto per farle e intanto se volete possiamo fare delle live su tiktok che cosa ne pensate se vi piace come te andatemi a seguire e magari fatemelo sapere per delle live su tiktok non lo so io pensavo delle live su tiktok non in smr invece live su twitch ovviamente in smr voi fatemelo sapere e in caso per live su twitch utilizzerò il root perchè è un microfono è un po' differente dal Tosca Metal Blue Yeti perchè questo si concentra principalmente sulla mia antivoce e non si concentra invece su rumori esterni invece il Blue Yeti prende un po' tutto quindi questo microfono lo trovo un pochettino più adatto per twitch allora io ho messo la malita bianca io ora vado a prendere First Love della palette che vi ho fatto vedere è un rosino antico veramente molto bello infatti è l'ombretto più scavato della palette e io lo vado a mettere sempre sotto l'occhio come in questo modo questo è il mio tratto distintivo sia matita bianca con sotto ombretto e di solito non lo metto nella palpebra superiore all'ombretto mi piace tantissimo sotto e questo è il mio trucco da quando andavo al quarto quinto liceo perchè mi piace l'effetto fa sembrare gli occhi molto 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 più più grandi e poi vado a prendere liceo che ha un marroncino e ce lo metto qua vicino l'occhio allora devo dire che questa palette è all'altezza degli ombretti di Enix ovviamente quelli sono veramente favolosi e in realtà vorrei anche provare nuove palette ora che si potrà andare da Sephora in ciotera così magari le vado anche a provare però diciamo che non è un malvagio poi pensavo sul secondo canale di acquistare delle palette anche economic di provarle insieme che cosa ne pensate? allora su quel canale c'è quel canale veramente un po' una cosa comica perchè è nata come un è nato come un canale artistico per poi diventare un canale un po' tutta una mischia però ci sta perchè è un po' il mio diario sono un po' le mie passioni sono un po' quello che mi va di fare durante il periodo della vita e ora che mi sono anche molto allacciata al mondo fitness veramente vedo un sacco di video si vedo un sacco di ragazzi io stessa mi alleno con Giulia che è un'altra ragazza qui su youtube che fa smr che fa anche la personal trainer e se è vero siete persi vi lascio il video qui sotto nell'info box dove parlo del suo allenamento e del percorso che stiamo facendo insieme e grazie comunque a questo allenamento mi sento molto più forte prima non riuscivo a fare niente nemmeno 5 minuti ora invece riesco a portare a termine quasi l'intero allenamento perchè in alcune giornate magari ci sta che un giorno sono meno attiva un giorno sono un po' più picre un giorno non mi va eccetera quindi ci sta ovviamente quindi sono veramente molto molto contenta dei progressi che sto facendo ma non quanto a livello fisico non quanto a livello mentale comunque di forza perchè è bello riuscire dopo tanto tempo che io veramente non sapevo fare un piegamento o fare anche solo 5 piegamenti di fila è veramente soddisfacente allora vado a riprendere di nuovo però first love è cosa da intensificare è cosa da intensificare così e vado un pochettino a sfumare quella che sarebbe questo bianchino che sarebbe questo bianchino qua ok allora avrei voluto mettermi l'eyeliner però dentro i video però dentro i video non ci riesco sinceramente perchè mi sento osservata non lo so perchè non riesco a mettermi l'eyeliner nei video quindi vado giusto direttamente di mascara magari intensifico un altro un pochino con q no con sirius sarebbe questo bianchino qui e vado a intensificare il cuo comunque stavo pensando l'altro giorno che due anni fa ad aprile avevo comprato il microfonino quello da mettere qua quello piccolino insomma è la varietta 10 euro e se penso a dove sono ora rispetto a due anni fa ma non tanto gli iscritti quanto di addirittura c'è lo studio personale ho le softbox il road il tascam i bluietti i tanti sfondi uno sfondo bianco come la parete che prima che ho in casa avevo sfondi bianchi tante cose di cui parlare tante cose da farvi vedere veramente il secondo canale veramente io ci rimango molto 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 contenta e sono veramente molto 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 contenta di tutti i progressi di tutte le cose che ho fatto ho ricevuto e questo grazie a voi se ho tutto questo è veramente grazie a voi quindi io il miglior modo per cui di fare tutta questa gentilezza è continuare a portare dei contenuti che spero vi piacciono continuare a portare dei contenuti smr carini continuare e contribuire alla qualità del canale cercare di fare dei bei video magari anche dei video un pochettino più elaborati tra un po' arriveranno di roleplay non mi sono dimenticata di Ariel ad esempio non mi sono dimenticata ragazzi veramente e quindi veramente sono un sacco un sacco un sacco contenta perché questa è un po' una mia rivincita poi vabbè di questo una rivincita personale di tutte di quanto io non credevo in me stessa nel periodo scolastico veramente il periodo scolastico è stato un po' altanelante gli elementari sono state tremende veramente 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 io non so come certa gente possa fare la maestra all'elementari perché veramente i peggiori incubi mi sono venuti da lì veramente avevo delle maestre veramente atruci assurde e tra favoritismi tra cose veramente pesanti sminuire veramente un bambino già io non capisco ragazzi veramente ci dovrebbero essere delle persone competenti a stare dietro a dei bambini perché veramente quell'età l'età in cui un bambino si forma e se non è abbastanza forte può veramente controvettere la sua mente questa cosa cioè io peggiori incubi ce l'ho da lì e anche le medie in realtà però alla fine alle medie già un pochettino di risposta ce l'hai quindi io veramente tornerai indietro all'elementare per dare certe risposte veramente assurde ragazzi assurde già vi racconto una cosa allora una un'esperienza che veramente mi ha magari mi metto il mascara prima sul mascara così vi racconto di questo episodio che ha veramente impresso nella memoria da quando ero piccola allora 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 e all'alimentare un giorno c'è stato un cortocircuito ossia non mi ricordo che era successo comunque si sentiva buzza di boh dire che bruciava cioè non so questo sia strano dire che bruciava non lo so vabbè comunque si sono tutti spaventati spaventatissimi e cioè è stata una maestra che mi ha preso per il pulso e mi ha strattonato fuori per andare sulle scale di emergenza allora siamo usciti nel cortile e dopo quando abbiamo capito che la situazione non era grave siamo tornati in classe dopo un po' di tempo c'è stata però una bambina che si era veramente spaventata e questa bambina era sulmana non lo so in realtà ragazzi vabbè non era italiana cioè era italiana però era musulmana insomma e loro l'avevano sempre un pochettino maltrattata per questo ora non voglio dire parole grandi eh perché non è che l'abbiano mai menata o cose del genere per carità però comunque anche verbalmente nei modi nei gesti insomma lo capisci quando non apprezzi qualcuno e questa bambina comunque non aveva fatto niente era solamente aveva solamente i genitori musulmani magari loro non gli davano il genio questo a loro erano due professoresse cioè due maestre che veramente cioè io penso che non guarderanno mai questo video ovviamente però cioè veramente se mai dovessero portare questo video vi invito veramente a pensare a cioè magari non se lo ricordano nemmeno vabbè comunque continuiamo il racconto questa bambina si era spaventata si era messa a piangere in classe loro l'hanno trattata di un male ragazzi che stava piangendo eh perché piangi ok continui a piangere a piangere chiamiamola preside cioè tutti hanno veramente addirittura chiamato la preside perché questa bambina si era messa a piangere perché si era spaventata e ci eravamo spaventati tutti però magari si era messa a piangere per che ne so magari avrà avuto lo stesso episodio a casa sua quindi l'avrà ricordato e magari si è messa a piangere per questo che per carità pure io sono una fifona quando sento buzze strane cioè io vado in panico soprattutto quando sto a casa da sola però cioè comunque addirittura hanno chiamato la preside e la preside è venuta tutta incazzata ho detto non devi piangere cioè ma chi sei tu per dire non devi piangere una bambina cioè ma veramente stiamo facendo veramente ragazzi cioè io mi ricordo di questa cosa e ancora ce l'ho in testa cioè e purtroppo io ero piccola se no veramente mi sarei alzata che avrei detto cioè che che ma state serie tutti quanti non lo so non lo so veramente già alcune persone non dovrebbero fare proprio questo mestiere veramente cioè veramente proprio non ho parole ancora per descriverlo veramente e ma proprio veramente le elementari sono state pronte 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 anche per me perché beh c'erano vabbè c'era un sacco di lecchinaggio ossia ossia tra madre e maestra no? e quindi poi le maestre a seconda di che lecchinava di più davano che ne so le parti belle nelle recite eccetera cioè mia madre non ha mai fatto lecchinaggio mi veniva a prendere la scuola e se ne andavamo cioè ognuno faceva i propri e poi comunque ero una bambina non chiusa ma però non ero molto espansiva e quindi forse per quello mi trattava un po' vabbè e quindi veramente erano dei bellissimi ricordi mi ricordo pure che io addirittura rischiavo di essere bocciata all'alimentari perché cioè io non mi impegnavo tra virgolette per loro vabbè già veramente io ancora mi chiedo come certe persone possano fare questi lavori non possono già almeno si cosciente mentre ah si poi un'altra storia una volta una volta una di queste due si era persa il portafoglio addirittura ha detto cioè è venuta a controllare le borse di tutti se avevamo questo portafoglio cioè dei bambini ma veramente e poi eravamo pure piccoli prima costavamo al quinto anno di elementari il mare è stato il terzo non mi ricordo però cioè io non ho veramente non ho parole bisogna avere una certa capacità intellettuale per fare questi lavori cioè non li possono fare chiunque cioè dovrebbero mettere un po' non lo so dei supervisori per vedere come lo fanno i lavori queste persone come fanno il loro lavoro perché cioè io ho capito quando un bambino fai capriccio oppure ti fa arrabbiare tu magari alzi un pochetto la voce vabbè anche alzi la voce magari fai un po' il tono autoritario per dire ok ora smettila magari fa qualcosa di veramente sbagliato ma non come facevano loro veramente che vabbè ora non vi sto puoi raccontare cioè ovviamente non hanno mai alzato i mani eccetera però proprio i gesti modi ve l'ho detto di disprezzo in confronto a chi non faceva il lecchinaccio vabbè mi dispiace se questo video è andato un po' un argomento un po' strano ma boh non lo so perché abbiamo parlato di questo in realtà io volevo parlare di serie tv di cosa sto vedendo in questo periodo ho finito due serie in questo periodo sto vedendo la terza sto vedendo New Amsterdam che è un po' come crisanatui però di una stagione con due episodi quindi più le cose piccole bravi bellissime le cose lunghe mi annoiano e quindi non lo so perché sono andata a parlare di questo argomento vabbè sono comunque esperienze fatemi sapere voi cosa ne pensate ho la macchina di scariche noi ci rivediamo nel prossimo video ragazzi ciao ciao